Bella a tutti ragazzi, io gioco HD e ben ritrovati in un nuovo video Siamo sulle Skywars con Clothing Per la mia vendetta Che vedrete il video sul suo canale Eeeh Mi devo vendicare malamente ma proprio Oh vieni Si ok arriva Aspettiamo che mi ci giro Aspettiamo un Clothing che spawna Eccolo Non sai che avevo quasi vinto 2 3, 2, 1 Oh se non siamo insieme adesso Ecco Non siamo insieme insieme No Ma come è possibile No siamo insieme Siamo insieme Sicuro Ok Eccoti ecoti ti vedo E' iniziamo la partita Benissimo raga Dai Voglio uccidere a Cico Voglio uccidere a Cico Vediamo chi è che di uccidere stavolta Oh veniamo Che cazzo Vedi 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 Vieni 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 pure sulla mia isola Tanto Vabbè all'inizio pure ci uscidiamo Tu hai proprio Un Una rissa proprio Vuoi morire subito No no vabbè subito no Aspettiamo un attimo Rimaniamo solo io e te E poi ti ammazzo E poi ti ammazzo Sì poi 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 ti ammazzo Poi quello che succede Succede No Esatto Bravo Vedo che hai capito Poi le frecce Le metto qui Che tanto mi occupano Solo spazio Perché me le ha divise Stronzo Non va a finire che muoio se sento neanche fare il coso Mmm io vedo No abbiamo detto che all'inizio niente No scusa un secondo No 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 Ok Ok ho trovato la TNT comunque TNT trovata Yes Che che c'è minchia Quanta gente che c'è già al centro Quanta gente ho ucciso già Che voleva venire al centro Due Eh vabbò Non so quanti siamo Pochissimi siamo Siamo in treva Allora Questo qui Come cazzo mi serve una cordicelle Delle Delle ragnatele O ancora meglio una corda Questo qui potrebbe servire al ciclo Aspetta che lo butto Ok Poi andiamo al centro Ci facciamo bene Poi quando siamo pronti Si si picca Ma tanto ti ammazzo male Senza che ci provi Ti ammazzo male Io Dopo però Ok dopo Io per il momento Non ti faccio niente Stai tranquillo Non ti voglio Sciupare troppo Che poi sennò ti lamenti Ho una bella isoletta Voda Ragazzi Praticamente Adesso ci sistemiamo Quando abbiamo finito Di sistemarci Ci sarà la battaglia epica Fra me E clothing In cui si sa Che vincerò Ognuno Pensa Quello che vuole pensare Giusto Cico Non sbagliato Va bene Che ci suicidiamo Con i dei Dei cappati Io Eh no Mio nonno Può essere Anche si No E infatti Che cazzo Potrebbe servirti Questo Lascia che Spacchiamo la gesta Come ci ringerò la gesta È arrivato Cico Cercando le cose Però tanto Vediamo Vediamo Magari con quel poco Che mi hai lasciato Ma ancora tu non mi hai visto Forse Certo che ti ho visto Che sei sottrima No E stai dando fuoco No Veramente sto spaccando le teste E le geste Le sto dando fuoco Ok Dove sei? Non mi hai lasciato un cazzo Non mi hai lasciato No Allora Metti giù Una crafting table Del cazzo Anzi Ti serve adesso Eh Certo che mi serve Adesso te la metto Aspetta No no Non mi stai io Grazie Lo stesso Ehi Sì sì Ma tanto ti ammazzo male Sento che ci trovi Ti ammazzo male io Dopo però Ma che cazzo fa? E vince E vince Io non ti volevo attaccare Infatti Ma Ho fatto Ho fatto l'infame Come tu l'hai fatto Sì ma a differenza Io non ti ho detto Che non ti attaccavo Quando eravamo in due Quindi tu sei doppio infame E io Tu lo sapevi Che quando eravamo in due Ti ammazzavo Però io adesso Non ti ho detto Di ammazzarci Quindi Questa è una cosa Veggie Bostardo Vabbè comunque Questo è il fatto Che siamo pari No Non siamo pari Per niente Vabbè no Nella partita prima Cosa hai fatto Sì ma Che c'entra? Io non ti ho detto Che non ti ammazzavo Quando rimaniamo in due Cosa vuoi fare? Però adesso Avevamo detto Che ci prendevamo Una passa per Scegliere le nostre armi Eh Vabbè dai C'è un'altra Eh così Poi mi vendico dai Oh vedi che non avrò Non avrò pietà Va bene Non me lo voglio Ma ti sei buttato Tu è vicente Tu non c'è Sì allora No No Ma pò fa cagare Ma sono male Io subito Sì ti giuro Andrò per me In Monty A ricercare la tua morte Oh Non rompermi le palle E uno l'ho ucciso Potevo andare anche con l'arma Però mi scocciavo Volevo proprio Ucciderlo brutale Totalmente Perché E' come Mamma mia Mi incazzo E' morto Ma ti ammazzo No 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 Perché Leggi la chat Aspetta che non ho visto Ehi là youtube No dove No ma leggi la chat E quelli No sei morto Lo sai cosa è successo Cosa Che praticamente Volevo Uccidere a uno Allora Cos'è che ho fatto Avevo poca vita E mi sono buttato Allo stesso Occhio Avevo come tre cuore e mezzo Avevo come tre cuore e mezzo Mi faccio un altro Si aspetta 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 che io avevo trovato l'enderferm o la spada in diamante e volevo venirti ad ammazzare Oh boh dai che è successo lo stesso Però non mi ha ammazzato top Mannaglia Tanto non avevo cose buone quindi Sinceramente me l'ho fatto così stupide Mizzica se viene una mappa buona ti ammazzo subito Se viene una mappa buona però Dai speriamo che viene una mappa buona Questo è il deathmatch ok Quello che faremo cioè sarà proprio L'incontro di E3 è buono E non parli mamma mia se vuoi sei concentrato No aspetta eh si appunto Allora Sto facendo parkour Si guarda guarda che lo vado a prendere adesso Aspetta il popolo Non so neanche se metterlo a questa partita quando sono morto Perché è durato troppo poco Qualsima se la metto però poi E' brutto non lo so Cavata persa da giro Non so se andargli davanti oppure aspettare Aspetta che finisce tutte le frecce Amelia Kayazzo ha iniziato a seguirti Su Instagram E che è questo? Boh Mamutu Oh io sono contro sto mamutu di me Merda qui E vince e va a vincere così E va a vincere così Io questa musica metto guarda Eh mettila Eh no ma adesso no Quando Quando la edito E beh Beh grazie Non adesso Ti mangi come per alleviarvi il lavoro E va a vincere così Va a vincere Ok ragazzi Questo episodio si conclude qui Come sempre Iscrivetevi Commentate e passate dal canale Di Clothing E' un milanio A Cico male Perché è stato un grande Un grande Cico Cos'è stato un grande Un grande? Infame Ecco Quello di Dire altre cose brutte Ma quello lì pure tu è Bastardo Vabbè E commentate Se il video vi è piaciuto Iscrivetevi Se ancora non l'avete fatto Passate al canale di Clothing E noi ci vediamo Al prossimo E mettete un mi piace Mi raccomando